Nel DNA trovato sotto le unghie di Lauretta Toffoli la chiave dell'omicidio di via della Valle Audine sarà confrontato con quello di Paglia Longa. Nella casa dell'iniziato numero 1 trovata anche una busta di cocaina. Aperta questa mattina la camera ardente per Don Pierluigi di Piazza nel suo centro Balducci in Gentinaia a dare l'ultimo saluto al prete degli ultimi. Domani l'esequia a Zuliano, poi il trasferimento a Dualis. Sono arrivate le prime denunce per gli scontri al Varco 4 del porto di Trieste 18 ottobre. 30 i denunciati per esistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e adunata sediziosa. Collaborazione tra il Cro di Aviano nel lavamento di cavalli di Aveacco, bambini e ragazzi malati oncologici a contatto con gli animali davanti a un cavallo Ghert a 18 anni riuscita ad alzarsi dalla sedia rocette. Si giocherà domenica alle 21 la partita tra Serenità Neudinese e Bianconeri Arbiti della Lotto a Salvezza con l'Arechi che si prepara un tutto esaurito anche nella curva ospiti. Buonasera e ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Non si spengono i riflettori degli investigatori sull'omicidio di Via della Valle a Udine. Oggi in carcere è stato prelevato il DNA di Vincenzo Paglialonga, indiziato per il deritto, trovata a casa sua una busta di cocaina. L'uomo si difende, quella droga non è mia, qualcuno ha le mie chiavi di casa. Vincenzo Paglialonga, indiziato per l'uccisione di Lauretta Toffoli, è stato sottoposto al prelievo del DNA. In casa sua, durante la perquisizione, è spuntata una bustina contenente cocaina. Sono le novità emerse oggi sull'omicidio della donna di 74 anni, uccisa nove giorni fa con 33 coltellate nella sua casa in Via della Valle a Udine. Il mio assistito, spiega il difensore dell'uomo, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, si è sottoposto spontaneamente al prelievo, avvenuto alle 12 in carcere. Anche se le autorità avevano il suo DNA per vicende pregresse, prosegue, Paglialonga si è reso disponibile per un immediato confronto con gli altri elementi raccolti, fra i quali il materiale è rimasto sotto le unghie della vittima. Per quanto riguarda la cocaina, Paglialonga è escluso che in casa sua ci fosse droga, ipotizzando che qualcuno sia entrato in possesso delle chiavi della sua abitazione. Oltre alla cocaina, infatti, Paglialonga non riesce a spiegarsi come sia entrato nel suo appartamento il calzino sporco di sangue sequestrato dagli inquirenti. Lui ha fermato di averlo trovato per le scale la mattina dopo l'omicidio e di averlo appoggiato vicino alla porta di casa perché è rimasto chiuso fuori. Infine, Paglialonga ha precisato di possedere solo coltelli con il manico grigio, a differenza di quello con tracce ematiche trovato nella sua abitazione. A questo punto, i risultati della comparazione del DNA diventano determinanti. Dall'esito si potrà capire se gli indizi a carico di Paglialonga porteranno alla sua incriminazione o se, come lui sostiene, qualcuno ha cercato di incastrarlo. Si è chiusa da poco la camera ardente nel centro Balducci di Zuliano dove centinaia di persone stanno dando l'estremo saluto a Don Pierluigi di Piazza, scomparso ieri dopo una breve malattia. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Lascia un mondo cambiato Pierluigi, almeno qui da noi, perché lui con la sua presenza, con la sua volontà, ha modificato il modo di essere, il modo di vivere, sia nella nostra piccola chiesa qui, sia con la sua associazione, insomma, con la nostra associazione. Noi eravamo proprio vicini, però quando è arrivato Pierluigi abitavamo qui 40 anni fa, che sono andate le figlie, insomma, abbiamo... Abbiamo visto i nostri figli, praticamente... Tito vicino, vicino, ha cresciuto. Abbiamo passati veramente insieme, diciamo, è stata una compagnia insostituibile, ci ha veramente messi su una strada che non si lascia poi alla fine. I volontari non si sono mai allontanati dal centro Balducci, forse è una notizia che sapete già, ma al centro Balducci ci sono circa 70-80 persone che collaborano con noi affinché questo laboratorio di idee possa continuare a mantenere quello che è stata l'identità di chi l'ha fondata e di chi, anche se non c'è, sarà sempre con noi qui. La Digos di Trieste ha denunciato 30 persone per quanto è venuto al porto lunedì 18 ottobre. Le forze dell'ordine quel giorno hanno sgomberato il presidio che bloccava lo scalo del venerdì precedente. I portuali avevano sposato la protesta del movimento Novax. Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso di cosa all'indirizzo delle forze di polizia e poi manifestazione non autorizzata e adunata sediziosa. Sono le accuse di cui dovranno rispondere 30 cittadini italiani per quanto è venuto al Varco 4 del porto di Trieste il 18 ottobre scorso e poi per la violenza esplosa nella zona dei Campi Elisi poco distanti, una volta concluso lo sgombero. La Digos della Questura di Trieste al termine di un'indagine molto certosina per collegare nomi e volti ai più facinorosi ha consegnato i documenti alla Procura della Repubblica che con il PM Pietro Montrone ha coordinato le indagini. Si tratta di 39 denunce che si aggiungono alle 25 già annunciate nei giorni immediatamente successivi all'occupazione dello scalo. La protesta era scattata venerdì 15 ottobre quando il coordinamento lavoratori portuali aveva deciso di bloccare lo scalo dopo aver sposato le proteste dei movimenti Novax. Al porto erano arrivate anche 8.000 persone dopo un weekend di occupazione e visti gli ingenti danni economici dello sciopero non autorizzato la polizia aveva provveduto allo sgombero dell'area. Sono scoppiati degli scontri e poi dei tafferugli con una parte degli occupanti che si è spostata in piazza dell'Unità d'Italia dopo un corteo non autorizzato e un'altra parte che ha scatenato una protesta violenta nei pressi del Varco 4 bloccando la città. Tra i denunciati spiccano anche i leader del movimento negazionista che avrebbero istigato i presenti a commettere reati. Tre agenti erano rimasti feriti negli scontri. 32.000 articoli elettrici e elettronici fabbricati in Cina sono stati sequestrati dopo essere entrati in Italia attraverso il valico di Coccao. La merce sdoganata in Ungheria diretta a Napoli aveva un valore stimato in circa 2 milioni di euro ed era stipata a bordo di un auto articolato fermato vicino a Venezia dalle fiamme gialle di Treviso. Il carico era sprovvisto a delle dichiarazioni di conformità anziché il marchio comunitario presentava l'ogosimile CE ovvero China Export. Il conducente e l'importatore sono stati denunciati per i reati di tentata a frodo in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi. Riforma cartabia del sistema giudiziario oggi in regione una toga su due aderito allo sciopero. Oggi nel distretto della Corte d'Appello di Trieste l'adesione allo sciopero indetto a livello nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha raggiunto quota 50%. La stensione dell'attività giudiziaria durante la quale sono state comunque garantite le funzioni essenziali è stata proclamata per contestare i contenuti della riforma cartabia del sistema giudiziario in fase di approvazione in sede parlamentare. L'Associazione Nazionale Magistrati a livello nazionale ha deliberato questo sciopero per contestare quelli che sono i contenuti della riforma in quanto ritenuti contrari a quelli che sono i principi fondanti della funzione della magistratura in base al dettato costituzionale. Le motivazioni in dettaglio sono state spiegate questa mattina nei tribunali di Trieste, Pordenone e Udine dagli esponenti locali dell'ANM. Innanzitutto il fatto che si vada a ledere è quella che riteniamo essere il fondamento principale dell'indipendenza della magistratura del singolo magistrato nella libertà di esprimere i suoi giudizi senza essere vincolato a quelle che sono le indicazioni degli organi superiori della magistratura. Dall'altro lato si individuano in questa gelarchizzazione un vincolo sia per il giudice che per il pubblico ministero che non potrà quindi essere più imparziale. Protesta questa mattina in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per i dipendenti della Flex. La società che produce microcomponenti ha annunciato il licenziamento di 280 dipendenti su 525. Domani tavolo al Mise. Su 525 lavoratori, 280 sono a rischio. La Flex, storica realtà triestina che produce microcomponenti per la trasmissione di dati rischia di vedere dimezzato il numero di dipendenti e oggi quasi 200 persone si sono radunate sotto la prefettura dove i rappresentanti sindacali hanno chiesto audizione dal prefetto annunziato Verde e domani è previsto un vertice al Mise a Roma. È una delle avvertenze più importanti del nostro territorio negli ultimi 15-20 anni. C'è la necessità che a presiedere il tavolo ci sia come dire una presenza politica o il ministro o il vice ministro in quanto riteniamo che questa deve essere un'avvertenza che deve essere, come dire, deve vedere la partecipazione del governo e delle istituzioni in prima linea in maniera molto forte. L'auspicio però è che si attivi tutta la politica locale. È importante che si attivino tutte le parti sia politiche che sociali affinché scongiurare tutta la parte di Zuberi dal momento non è ancora ufficiale. Intanto la Flex lavora in silenzio la delocalizzazione in Romania. Abbiamo notizie che sta già smontando qualche macchinario questo assolutamente noi non possiamo permetterlo quindi aspettiamo l'interlocuzione ufficiale con l'azienda le parti sociali e le istituzioni locali. I sindacati sono pronti anche a bloccare la fabbrica. Noi siamo pronti a una mobilitazione straordinaria per difendere quello che resta dell'industria su questo territorio. È una mobilitazione che deve riguardare tutti deve riguardare Trieste. Ci sono poi gli interinali circa un'ottantina che vivono la giornata anche da dieci anni. Sono lavatrici e lavoratori che sono da anni lì dentro hanno maturato professionalità e anche una certa anzianità per cui chiediamo che direttamente dal contratto applicato non ci sia nessuno esubero e nessuno a fare uscita di queste lavatrici e lavoratori. Si è chiusa oggi definitivamente con il voto dell'Assemblea dei Soci l'era di Giuseppe Bono alla guida di Fincantieri il colosso navalmeccanico che da domani sarà guidato dal nuovo presidente il generale Claudio Graziano al posto di Giampiero Massolo e dal nuovo amministratore delegato Pierroberto Folgero che prenderà il proprio il posto di Bono. L'Assemblea che si è svolta da remoto ha approvato il bilancio 2021 e ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione tutto è andato secondo le previsioni in attuazione della svolta che il governo Draghi ha voluto imprimere alla Fincantieri dopo venti di crescita e sviluppo che hanno fatto il primo operatore navalmeccanico mondiale nel settore delle crociere. Quasi 12 milioni di euro di interventi per potenziare la sanità del San Vitesse sono stati presentati oggi dal governatore Federica e dal suo vice Riccardi. Da una parte la regione è pronta a potenziare ulteriormente la sanità dall'altra i comitati locali continuano a chiedere maggiore attenzione la giunta Federica nel suo turno nei distretti ha presentato oggi ai sindaci e ai medici del territorio gli investimenti per il San Vitesse che comporteranno un aumento di posti letto da 36 a 50 un ospedale di comunità San Vito al Tagliamento un AB una centrale operativa oltre che una casa della comunità Spocca Casarsa della Delizia quasi 12 milioni di euro per potenziare soprattutto la medicina del territorio vogliamo andare vicino ai cittadini e questo lo prevede anche il PNRR ma soprattutto mettiamo moltissime risorse regionali per andare in questa direzione all'esterno del distretto è andato in scena un presidio organizzato dal Comitato Salute San Vitesse bene comune chiediamo che ci sia più rispetto per la sanità del San Vitesse per il presidio ospedaliero che è San Vito e Spilimbergo e deve essere un presidio autonomo e poi abbiamo un sacco di problemi non ultima la radiologia che essendo senza medici non riesce più a prendere appuntamenti per i cittadini richieste che il governatore tiene a mente ma che commenta così le contestazioni sono sempre però noi vogliamo ecco non vogliamo inseguire il profitto elettorale dobbiamo fare le scelte che soprattutto in prospettiva garantiscano i servizi cittadini di questa regione ho piena consapevolezza che esistono criticità nella sanità è un mollo da quasi 3 miliardi di euro all'anno su un bilancio di 5 e mezzo della regione vuol dire che per modificare e correggere d'altro serve pazienza serve costanza serve serietà i ladri si sono introdotti in municipio a fontana fredda nella notte lasciandosi dietro più danni di quanto hanno rubato non è tanto l'importo sottratto circa 400 euro da una cassetta di sicurezza ad aver lasciato di stucco quanto il comportamento di chi ha fatto eruzione nel municipio nei vari locali nei vari locali messi a soquadro sono stati trovati armadetti aperti disordine vario perfino carte di merendine e bottiglie sparse segno che oltre a rubare ladri hanno anche pasteggiato con quanto trovato il sindaco Michele Pegolo ha allertato i dipendenti comunali questa mattina ha chiamato allertato dai dipendenti comunali questa mattina ha chiamato le forze dell'ordine sui fatti indaga il nucleo operativo dei carabinieri di Sacile che ha già preso visione delle immagini di videosorveglianza per risalire ai malviventi terzo appuntamento di Confindustria Udine Academy con il professor Umit Bticci uno dei maggiori esperti mondiali di business performance che ha voluto dare dei consigli agli industriali fiulani è Umit Bticci professore alla Business School di Edimburgo il terzo ospite del ciclo di incontri Confindustria Udine Academy organizzato dall'ente Confindustriale Udinese come corso di alta formazione per associati e non un incontro con al centro l'innovazione come ha sottolineato la vicepresidente Anna Mareschi Danieli innovare significa rischiare uscire dagli schemi e cambiare prospettiva detto Mareschi Danieli il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia ad essere stata definita strong innovator e accrescere la nostra vocazione all'innovazione spinta è necessario per accrescere la competitività dal canto suo Bticci ha voluto indirizzare un suggerimento agli industriali io definisco le aziende con un elevato livello di performance come quelle che con costanza e in modo deciso superano i loro competitor su un periodo di tempo di almeno 10 anni riescono ad analizzare opportunità e minacce e a creare innovazione da queste situazioni riuscendo a cambiare più velocemente dei loro avversari l'innovazione nasce dalle persone alla fine non sono altro che idee interessanti sviluppate e coltivate nasce da una persona ma può sopravvivere solo grazie alla collaborazione tra diverse persone e da quella rete alla fine emerge l'idea vincente quello che dobbiamo fare come manager è riuscire a creare un ambiente fertile per lo sviluppo di questa collaborazione per lasciare che queste idee sboccino mentre oggi la Germania ha annunciato il proprio no al regolamento europeo che classifica il nucleare come energia sostenibile l'Italia è di tutt'altro avviso e secondo il sottosegretario la transizione ecologica Vania Gava è un'ipotesi da prendere in considerazione per il nostro paese nel dibattito per rendersi sempre più indipendenti dal punto di vista energetico l'Italia non chiude al nucleare pulito anzi è pronta a valutarlo come possibile alternativa non altrettanto la Germania che dice no al regolamento europeo che classifica nucleare e gas come attività sostenibili e green per il governo italiano resta questa invece una possibilità da percorrere come sottolinea il sottosegretario della transizione ecologica la friulana Vania Gava sul fronte del nucleare è stata inserita in tassonomia gas e nucleare ho visto oggi l'annuncio di Germania che dice che non voterà quel documento beh insomma bisogna anche dire che però Germania ha aumentato sensibilmente il consumo di carbone quindi forse è meglio guardare verso una tecnologia che non ha emissioni e una tecnologia che sicuramente non domani ma nei prossimi anni possa renderci indipendenti ma anche ormai un anno alle elezioni regionali se nel centrodestra le manovre sono iniziate da diversi mesi anche nel centrosinistra qualcosa si muove la capogruppo del PD alla Camera Seracchiani auspica che il partito guardi ai moderati intercettare il voto dei moderati guardare al futuro cercando di diventare attrattivi il partito democratico ha iniziato le manovre in vista delle elezioni politiche regionali del prossimo anno con un obiettivo beh intanto il partito democratico deve immaginare immediatamente un campo largo di centrosinistra e iniziare a ragionare anzi ragionare in modo ancora più forte con quel mondo moderato che non si trova rappresentato in questo momento in nessuno spazio politico che spesso si astiene e che magari guardava in passato a forze moderate che purtroppo non esistono più il momento storico è particolare secondo l'analisi della ex governatrice alla luce anche di quanto sta accadendo in Forza Italia sicuramente stiamo assistendo a una grande evoluzione della politica stiamo assistendo veramente a grandi cambiamenti sia nel campo del centrosinistra che del centrodestra il centrodestra è un centrodestra che si sta trasformando che sta andando sempre più a destra e quindi è chiaro che ci siano dei movimenti verso il centro che pretendono di avere uno spazio pretendono di avere attenzione certo quello che sta accadendo dentro Forza Italia mi pare il più evidente insomma chi vuole spostare Forza Italia verso la lega e verso la destra evidentemente ha qualche difficoltà a convincere quella parte moderata che è sempre stata allo zoccolo duro diciamo di Forza Italia l'area giovane del Cro di Aviano assieme al direttore dottor Mascarin hanno raggiunto oggi l'allevamento Bella Vista Cavalli ad Aveacco di Coloredo di Montalbano per un progetto che vede il coinvolgimento degli animali in ambito oncologico i cavalli diventano un alleato terapeutico ad evidenziare l'area giovane del Cro di Aviano presente alla Bella Vista Cavalli a Coloredo di Montalbano che ha voluto far conoscere gli aspetti più belli della relazione tra uomo e cavallo e in particolare il ruolo che questo splendido animale può ricoprire nelle terapie riabilitative Gerta 18 anni che emozioni provi vicino a questo cavallo? Io sono un po' però sì mi fa tranquillità stare poi io in questo momento sono anche un po' ho un po' di problemi respiratorie è già tanto che sto così tanto in piedi quindi sì sono molto sorpresa devo dire sono molto contenta non vogliamo essere semplicemente dei somministratori di farmaci ma delle persone che accompagnano in un percorso difficile altre persone insomma e la differenza direi con i ragazzi che con loro cerchiamo di mantenere sempre vivo un progetto di vita ma questo anche fino all'ultimo cioè anche con ragazzi che sono sia con quelli che hanno molte possibilità di guarire sia anche con quelli che sono in una condizione di terminalità anche con loro manteniamo sempre un progetto di vita acceso perché ogni momento deve essere vissuto nel miglior modo possibile il centro di simulazione del dipartimento di area medica dell'università di Udine guarda al futuro con nuove progettualità che partono dalla telemedicina sperimentata in tempo di covid il centro di simulazione e alta formazione dell'università di Udine è costantemente in crescita in tempo di covid non si è fermato in due anni è stato in grado ad ospitare 1200 eventi dedicati alla formazione con oltre 4000 accessi alla struttura il bilancio dell'attività e le prospettive del centro sono state presentate in Sala Perraro a Santa Maria della Misericordia di Udine questo centro a differenza di altri durante il periodo pandemico ha lavorato molto ha supportato molte attività anche di tirocinio che non era possibile svolgere in ambito clinico per le regole legate alla pandemia le restrizioni legate alla pandemia molti reparti molte unità operative utilizzano di routine ormai ogni settimana il centro di simulazione per fare formazione quindi acquisire o mantenere delle competenze il centro uno tra le poche realtà presenti in Italia è pronto ad accogliere nuove sfide noi abbiamo colto l'occasione per iniziare due progetti molto interessanti uno in ambito di teleoncologia e un altro in ambito di teleemergenza e tutto questo facendo riferimento dal centro di simulazione dal centro di simulazione dove sono partite tutte le prime fasi ideatorie le prime fasi sperimentali perché il centro di simulazione rappresenta come posso dire l'incubatore di queste idee di questi progetti che hanno un effetto traslazionale cioè passano evidentemente dalla fase ideatoria sperimentale poi alla fase clinica oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2046 test sono stati registrati 125 positività al covid-19 le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre i pazienti ospedalizzati in altre reparti sono 154 oggi si registrano i decessi di 2 persone una a Udine una a Pordenone si è spento nella notte in Australia il presidente della Triestina Calcio Mario Biasin Un grave lutto ha colpito la Triestina Calcio dall'Australia dove viveva da quando ha lasciato il capoluogo Giuliano è infatti giunta la notizia della morte del presidente della società di calcio alla Bardata Mario Biasin aveva 71 anni aveva rilevato l'unione sportiva Triestina Calcio nel 2016 su spinta del cugino Mauro Milanese oggi dirigente del club salvando la società e restituendo speranza ad una piazza a cui era molto legato l'US Triestina Calcio 1918 nella persona dell'amministratore unico Mauro Milanese della sorella Romina e di tutte le sue componenti è sconvolta ci stringiamo a Glenda e a tutta la famiglia riposa in pace presidente così la Triestina ha annunciato la scomparsa del massimo dirigente il governatore della regione Massimiliano Fedriga in una nota ha ricordato Biasin come una persona con grande capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà spirito di iniziativa enorme passione attaccamento alla terra di origine con la scomparsa di Mario Biasin la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città è un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo nell'esprimere sincero cordoglio alla famiglia e alla Triestina il nostro augurio che i valori che hanno contraddistinto l'intera esistenza di questo figlio illustre della nostra terra possono essere coltivati degnamente da chi in futuro sarà chiamato a guidare la gloriosa squadra di calcio rosso alla bardata il patrimonio espositivo del museo etnografico del Friuli si arricchisce di otto statue e linee appena restaurate otto statue e linee della fondazione Ciceri donate al museo etnografico del Friuli sono state restaurate grazie al cofinanziamento della fondazione Friuli tra queste un crocifisso che sarà sempre in esposizione mentre le altre saranno visibili a rotazione il pubblico potrà ammirare queste statue tra cui un vesper build una pietà che nel corso del tempo è andata pesantemente danneggiata non solo dall'umidità ma anche dai tarli e ha permesso di rendere il più possibile apprezzabile al pubblico non solo la resa anatomica ma anche la resa del panneggio di questa straordinaria scultura vi sono poi due angeli che originariamente si pensa recassero degli strumenti musicali nelle parti mancanti nelle mani le altre statue sono costituite da una Madonna con il bambino riferibile alla bottega di Giovanni Martini quindi una delle eccellenze della scultura linea friulana del Rinascimento due reliquiari uno con San Paolo e uno di Santa Anastasia e un Sant'Antonio che regge in braccio il bambino riferibile molto probabilmente al Settecento i racconti la confession di Diego Navarria di Carlino e una coppia in incognito di Rossella Soranzo di Duino hanno vinto la prima edizione del premio internazionale Iacom Dai Zeis ideato dal settimanale Il Friuli in occasione dei cento anni dalla morte del celebre personaggio friulano e organizzato in collaborazione con la società filologica friulana e l'Università di Udine erano oltre cento i testi validi in concorso di cui 60 lingue friulana 40 in italiano scritti dai 59 concorrenti provenienti dalla regione ma anche dal resto d'Italia e dall'estero ha rappresentato l'evento conclusivo della settimana De Culture Furlane promossa dalla filologica e stata ospitata a Villa Manin di Passariano da Sapori Proloco organizzata dal comitato regionale UMPLI guidato da Walter Pezzarini A 22 anni di Cervignano Miss Sapori Proloco è letta ieri sera in diretta su Telefriuli La vincitrice del titolo di Miss Sapori Proloco 2022 lei è la concorrente numero 10 Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli dove è Angelica? è lei Angelica è lei Angelica Angelica Mazzero 22enne di Cervignano e sateletta Villa Manin Miss Sapori Proloco con altre 13 concorrenti è stata protagonista della serata trasmessa ieri in diretta su Telefriuli condotta da Michele Cupitò tutte hanno sfilato con abiti eleganti body ma anche capi e costumi da bagno d'epoca Angelica ha la passione del make up e lavora in un centro estetico a secondo posto si è classificata a Venezia Dura al 18enne di Valvasone Arzene e al terzo Chiara Mesaglio di Palazzolo dello Stella tutte e tre sono ammessi alle finale di Miss Italia in regione e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia in programma al centro congressi Cursal di Lignano sabbia d'oro a fine agosto oltre alle ispiranti Miss sul palco sono saliti anche i rappresentanti delle proloco presenti alla manifestazione Sapori Proloco che ha preso il via sabato a Villa Manin con loro anche la cantante Erika B Miss Friuli Venezia Giulia 2021 Elisa Mollettieri Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2021 Erika Rebellato l'organizzazione della selezione è stata augurata dall'UMPI Friuli Venezia Giulia Comitato Regionale Proloco e dall'agenzia Modascio.it di Paola Rizzotti Inaugurata ieri resterà aperta fino al 16 ottobre la mostra La bellezza della ragione allestita in Legio Fino al 16 ottobre 40 capolavori in mostra di provenienza internazionale rappresentativi di sette secoli tra 300 e primo 900 è stata inaugurata alle case delle esposizioni di Legio la mostra dal titolo La bellezza della ragione moderata dalla presidente del comitato di San Floriano la cerimonia a cui sono intervenuti l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato il presidente del consiglio regionale Pierumauro Zanin il curatore Don Alessio Geretti la presidente dell'associazione culturale Comitato di San Floriano è stata intervallata da brani eseguiti dal coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia Il Legio spalanca le sue porte a chi ha la capacità e la voglia di fermarsi un attimo e trovare nella vita una pausa un momento per sé per rincorrere ciò che il curatore della mostra ogni anno propone con estrema profondità e competenza ha detto l'assessore regionale Barbara Zilli intervenuta all'inaugurazione il tema di questa diciottesima edizione la bellezza della ragione ha continuato è nell'indole di tutti nell'essere umano ed è rappresentata perfettamente dalla perla incastonata nella carnia che è il Legio rinata grazie alla tenacia e alla visione di due parroci che hanno saputo valorizzarla fino a farla diventare una meta internazionale per gli appassionati di arte l'esposizione di Legio di quest'anno ha sottolineato Zilli ha raggiunto i diciotto anni è maggiorenne e ha quindi una grande responsabilità sulle spalle e si può lanciare verso nuove ambizioni in uno scenario così pieno di ulteriori incertezze internazionali con nuovi dubbi e sfide da risolvere la bellezza della ragione ha concluso consegna a tutti coloro che visitano l'esposizione anche una riflessione per essere o diventare migliori tra poco le notizie sportive dove in apertura si parlerà dell'Udinese si giocherà domenica alle 21 la partita contro la Salernitana bianconeri arbitri della lotta a salvezza con la Recchi che si prepara tutto esaurito anche nella curva ospiti tra poco tutte le notizie sportive sport FWG grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli